Noi puntiamo sulle tre economie che sono l'agricoltura, il turismo, il terziario e dunque Salle Pesce rappresenta tutto questo, i nostri prodotti tipici, il nostro mare, il nostro pescato, i nostri pescatori. D'altronde il nostro paese è anni che punta su queste cose, basta ricordare che abbiamo da poco installato la diga di ripopolamento che sta funzionando molto bene, che salvaguardia la nostra posidonia contro lo stracico e per il ripopolamento del pesce, soprattutto per difendere la piccola pesca che da noi è molto molto importante. Noi abbiamo allargato alla nautica perché noi partiamo dal mare, partiamo dal pescato, ma mare vuol dire anche vela, vuol dire anche diving, vuol dire anche palombari, vuol dire anche santuario del cetacei, vuol dire anche nautica, quindi quest'anno abbiamo aggiunto la nautica e man mano andrà sempre crescendo e vi sono poi gli incontri con le altre regioni, noi promuoviamo i nostri prodotti tipici ma è giusto anche fare un incontro culturale con i prodotti tipici di altre regioni, quindi si troveranno a sale e pesce varie degustazioni anche di prodotti particolari, dalla campagna all'Umbria, dalla Toscana al Friuli e questo credo sia molto interessante proprio a livello culturale. Altro appuntamento di qualità, una chicca in questo caso proprio perché si svolge in un nostro borgo medievale carinissimo, quello di Rollo, è la festa delle erbe aromatiche officinali, 13-14 giugno, quindi passeremo dal porto, dal pesce, alle erbe aromatiche anche qui nostre e di tutta Italia e non solo, spesso partecipa la Francia, ci allarghiamo, un appuntamento anche questo molto selezionato, molto di qualità, molto bello.